Sinner, finalista nell'edizione del 2021, è nella parte superiore del tabellone, quello presieduto da Alcaraz, appena tornato alla cima della classifica l'azzurro e lo spagnolo potrebbero quindi scontrarsi in semifinali come nei pozzi indiani. A Miami tenista addestrato da Simone Vagnozzi d'Arrencail dopo il successo in due set al debutto contro Diare Serbo, n.58 ATP, quelli ugualmente chiari sul Dimitrov Bulgaro, n.27 della classifica e 21 semina, sul russo Rubloff, numero 7 della classifica 6 semina, all'epoca e di nuovo tra i primi 10-8 mesi dopo l'ultima volta.